carissimi amici e amiche bentornati ad un nuovo incontro biblico su libri salvenziali siamo dati Gesù e Maria innanzitutto dunque questa sera parleremo del libro della Sapienza siamo abbastanza avanti in questo ciclo di catechesi ci mancano ancora i bellissimi libri della Sapienza e il libro del Siracide prima di mostrare appunto le slide presentative come sempre vedremo un po' qualcosa in generale del libro le tematiche principali e poi la parte più importante che è la rassegna dei brani scelti con relativo speriamo commento e il libro della Sapienza e il libro del Siracide più che catechesi questi sono inviti alla lettura perché come frequente nei libri sapienziali adesso salvo qualcosa del Cantico dei Cantici o magari qualche salmo un po' più ostico o anche magari qualche passaggio del libro del Coelet però in linea di massimo i libri sapienziali per esempio anche il libro dei Proverbi dei Proverbi che abbiamo già visto ma soprattutto la Sapienza e il Siracide sono comprensibilissimi quindi sono veramente alla portata non sono solo comprensibilissimi sono anche altamente edificanti quindi sono di relativa facile comprensione ma di altrettanto intensa profondità quindi sono altamente formativi altamente edificanti quindi è impossibile evidentemente in una catechesi poter affrontare esaurientemente i contenuti però è una cosa buona accogliere l'invito alla lettura cioè stasera introduciamo il libro della Sapienza vediamo dei brani scelti ecco chi vuole fare il pieno di grazia diciamo così prenda sto libro della Sapienza e se lo gusti nei suoi 16 splendidi capitoli ora faccio la condivisione di schermo così possiamo vedere innanzitutto le slide eccole qua di presentazione queste no eccole qui ok dovrebbe adesso vedersi la doppia immagine con sopra appunto la slide a prendere io il testo quindi il sottotitolo di questa conversazione è la Sapienza sovrana del giusto e della storia un po' questo è il messaggio di questo splendido libro no questo è vedete attribuito tradizionalmente a Salomone incipite di Bersavienzie Salomonis certo che noi abbiamo del libro della Sapienza non abbiamo la versione in ebraico il che ha fatto pensare moderni eseggeti ad una sua collocazione relativamente tardiva quindi all'interno dei cosiddetti libri deodorocanonici e quindi questo è un argomento per cui si nega l'attribuzione a Salomone ma se fosse stato di Salomone sarebbe stato scritto in ebraico e invece non è stato scritto in ebraico scritto direttamente in greco vedremo questa sera nell'analisi comparata avremo il testo della della Scei il testo della Settanta greca e il testo della Vulgata ma anche il testo ebraico perché non c'è semplicemente non c'è il testo ebraico del libro della Sapienza ed evidentemente non è neanche nel canone degli ebrei e se non ricordo male non dovrei ricordare male ma non è neanche nel canone dei protestanti dei literani se non ricordo male allora la struttura del libro è abbastanza elementare nel senso in tre parti la prima parte è la sapienza nei giusti e la stottezza negli enti vedremo che poi si contesta l'attribuzione a Salomone qui Salomone a certo punto fa delle confessioni personali quindi racconta dei fatti evidentemente autobiografici quindi non approfondisco questa questione ma come si fa ad attribuire alla pseudoepigrafia una caratteristica del genere mistero che io ancora devo capire sarò stupido e poi la terza parte la sapienza e la storia della salvezza da Adamo a Mosè quindi se vorrà avere i giusti dei re potremmo aggiungere e nella storia quali sono le tematiche principali che emergono in questo testo primo la sapienza è il bene supremo deve essere oggetto della massima aspirazione da parte di tutti secondo chiarissimo appare in questo testo un punto non sempre evidente nell'Antico Testamento che è la fede nell'immortalità dell'animo ci sono delle risposte molto significative a una delle grandi domande che qualunque persona intelligente deve porsi cioè l'origine della morte perché moriamo perché esiste la morte ancora la ricerca della sapienza come compito supremo della vita umana il contrario della sapienza della sapienza è la stoltezza e noi non possiamo essere stolti perché la stoltezza ci può essere come dire un'infermità che uno si porta dietro per ragioni come dire di vario genere a volte anche per non grandissime dotazioni di base a livello naturale ma spesso e volentieri la stoltezza è una colpa perché è una colpa perché tu non è stolto perché ha omesso di ricercare la sapienza di cercare la sapienza di acquisire la sapienza perché la sapienza bisogna cercarla e soltanto chi la cerca la trova l'altro tema cult di questo libro è appunto la reale possibilità di trovare la sapienza e anche di vivere secondo sapienza c'è una sezione del testo dove si parla appunto della sapienza personificata in cui gli eseggeti classici antichi quasi all'unanimità hanno visto la la descrizione certamente allegorica del verbo eterno di Dio sapienza increata così viene chiamato e quindi questa sapienza personificata si può contemplare in questo testo la sua azione nella storia della salvezza è abbastanza evidente che è chiara l'allusione al verbo eterno di Dio e poi troviamo nel libro della sapienza un altro particolare molto importante la prima enumerazione esplicita biblica delle quattro virtù cardinali cioè pudenza giustizia fortezza e temperanza introduzione bravissima perché è fondamentale andare adesso a leggere i testi vediamo se riusciamo a leggerli tutti perché sono abbastanza e anche molto impegnativi che presento prima in maniera come dire accarrellata quindi con il messaggio fondamentale e poi ce li andiamo a gustare numero uno chi è la sapienza punto interrogativo numero due la lunga sezione degli empi e dei giusti paragrafo argomento diciamo sezione veramente molto molto significanti la morte prematura del giusto soprattutto è uno dei brani che si può leggere ai funerali ovviamente di persone che sono apparse di un certo calibro nella vita non tanto umano ma calibro di vita interiore spirituale di fede poi la sapienza si può trovare certamente sì e Salomone cerca e trova la sapienza poi i 21 attributi della della sapienza qui qualcuno ha visto un parallelo con l'inno di Cleante Cleante era un filosofo stoico che presenta comunque dei sorprendenti parallelismi con questo brano poi sposare la sapienza è un tipo di nozze un po' particolari poi la bellissima preghiera per ottenere la sapienza e infine la conoscenza naturale di Dio anche su questo anche da questo brano deriva il dogma con modo del concilio Vaticano primo una volta che parlo del concilio Vaticano primo sottolineo perché il concilio Vaticano prima non c'è quasi nessuno parlano e sparlano tutti del secondo ma il primo ha fatto due costituzioni dogmatiche sono ancora un concilio diciamo così classico la pastore eternus di infallibilità del papa e la Dei filius proprio che ha formalizzato come dogma di fede la possibilità di una conoscenza certa e naturale di Dio cioè acquisibile solo con l'usilio della ragione ora ciò detto cambio schermo condiviso apro la finestra della sacra scrittura e andiamo a vedere i testi cominciando dal primo capitolo 1 15 dice così metto un attimo un parallelo anche alla traduzione della della serie del 2008 così possiamo fare un'analisi eventualmente comparata allora seguo come testo di riferimento base la traduzione del 74 anche perché quella che praticamente su quasi memoria in italiano per cui la preferisco amate la giustizia voi che governate sulla terra rettamente pensate del signore cercatelo con cuore semplice egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui i ragionamenti tortuosi allontanano da dio l'onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti la sapienza non entra in un'anima che opera il male ne abita in un corpo schiavo del peccato il santo spirito che ammaestra rifugge dalla finzione se ne sta lontano dai discorsi insensati è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia la sapienza è uno spirito amico degli uomini ma non lascerà impunito che insulta con le labbra perché dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore e osserva le parole della sua bocca infatti lo spirito del signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce per questo non gli sfuggirà chi proferisce cose ingiuste la giustizia vendicatrice non lo risparmierà si indagherà infatti sui propositi dell'empio e il suono delle sue parole giungerà fino al signore a condanno delle sue iniquità poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa perfino il sussurro delle murmurazioni non gli resta segreto guardatevi pertanto da un vano rumorare e preservate la lingua dalla maldicenza perché neppure una parola segreta sarà senza effetto ed una bocca menzognera uccide l'anima non provocate la morte con gli errori della vostra vita non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi che gli infatti ha creato tutto per l'esistenza le inquietature del mondo sono sane in esse non c'è veneno di morte negli inferi regnano sulla terra vedete come il testo è di una credo no comprensibilità proprio cristallina non ha bisogno di troppi commenti perché si commenta abbastanza abbastanza da solo faccio riferimento soltanto ad alcuni passaggi li riprendo e li sottolineano allora Dio si lascia trovare da quanti la sapienza e quindi il signore si lascia trovare da quanti non lo tentano peirazzo in greco significa metterlo alla prova vi ricordate la seconda tentazione di Gesù se tu sei figlio di Dio buttati giù cosa rispondi Gesù sta scritto non tenterai il signore Dio metterlo alla prova a Dio significa come dire dice vediamo se tu fai quello che ti dico io o quello che mi aspetto allora ti do retta e ti sto dietro insomma se c'è una cosa che Dio non farà mai proprio sapete che non si possono dire molte cose certe di Dio ma sicuramente è questo Dio non si lascia mica come dire me testare da noi creature casomai è lui che testa noi e che ci mette alla prova è come se ci mette alla prova non viceversa e attenzione poi si mostra anche a coloro che non rifiutano di credere in lui il testo greco è quasi intraducibile no si mostra ai non miscredenti in lui la miscredenza grossolana cioè un miscredente grossolano quindi un un beffardo lo chiama al Salmo 1 un un irrisore quindi una persona che stoltamente perché attenzione che gli stupidi pensano che Dio non esiste lo vedremo lo dice proprio il libro della della sapienza chiaramente non avrà nessuna manifestazione e appunto l'onnipotenza messa alla prova continua versetto 3 caccia gli stolti perché non c'è niente di più di più stupido di mettere alla prova l'onnipotenza no e guardate che il termine stolto anche qui molto molto interessante in greco in greco è alfa privativo afronas quindi afren proprio uno che senza intelletto senza sale in zucca ecco altra cosa importantissima la sapienza non entra in un'anima che opera il male te lo scordi proprio ne abita in un corpo schiavo del peccato attenzione a cogliere la come dire la sottigliezza no c'è un'anima che opera il male e poi c'è un corpo schiavo del peccato questo è tutto quanto l'insegnamento classico dei maestri di spirito un lussurioso o un goloso se la proprio dimentica la notte la sapienza perché non c'è niente che ostacola di più l'acquisto di essa quanto i peccati bassi ed impuri poi ancora il santo spirito altro argomento sapete che lo spirito santo noi possiamo contristarlo è la stessa cosa che nel carichismo si dice che tu perdi la grazia se commetti un peccato mortale il santo spirito è cacciato a sopraggiungere dell'ingiustizia adichias in greco anche qui alfa privativo e di che significa appunto la giustizia ma l'ingiustizia nella bibbia dovremmo aver imparato chi ha seguito un po' di catechesi a riguardo di lezioni che cos'è la giustizia secondo la bibbia osservare i comandamenti di dio quindi se tu i comandamenti li disattendi specialmente in materia grave lo spirito santo caso fugge lo perdi per dire la grazia poi alcune cose molto importanti quindi la sapienza di per sé è uno spirito amico degli uomini però non lascia impunito chi è blasfemo nelle sue lambra testualmente non è tanto chi 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 insulta no termine che è proprio kai huk atosei atosei scusate blasphemon e qui diria blasphemia no apò keilon autun quindi non lascia impuniti blasfemi chi insulta con le labbra chi chi insulta con le labbra il domine dio quindi il bestemmiatore per questo proseguo più avanti non gli sfuggirà chi proferisce parole ingiuste la giustizia vendicatrice non lo risparmierà allora ancora avanti non provocate la morte con gli errori della vostra vita non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani qui già c'è un altro aspetto fondamentale morte e rovina non vengono da Dio vengono da noi perché aggiunge subito Dio non ha creato la morte uno e non gode per la rovina dei viventi non è contento che noi ci andiamo a rovinare ma noi ci andiamo a rovinare con le opere delle nostre mani siamo onesti figlioli dei miei cari guardiamoci dentro e guardiamoci anche in giro sapete lo racconto tante volte nei poveri preti tante volte sentiamo storie di veramente macerie di casi andate a finire in rovina molto frequenti sono i matrimoni che vanno a zampe all'aria ma purtroppo io le chiamo croniche di una morte annunciata l'ho detto altre volte sono cose sono case che vanno in rovina perché sono state sono state non sono costruite malamente ma a volte proprio non costruite o costruite proprio in modo che sembrava quasi che uno stesse chiedendo guarda la costruisco così male sto quasi invocando la sua rovina e la sua caduta quindi questo per quanto riguarda la prima parte poi prosegue gli empi chi sono gli empi ecco gli empi sono quelli che invocano su di sé la morte la invocano la chiamano con gesti e con parole ritenendo l'amica si consumano per essa pensa un po' che scienziati e con essa concludono allenanza perché sono degni di appartenere gli empi in greco è a sebeis sapete che significa letteralmente no? a sebo alfa breviativo sempre i senza dio l'empio è un senza dio i senza dio non sono persone come dire sagge né tanto o meno da frequentare un senso a dio o una senza dio fermo restando che si ha la possibilità di farlo e che è anche lecito da un punto di vista anche di diritto canonico perché stanno addirittura matrimonimisti quindi ma per esempio no? di cose che vanno in rovina ma se tu ti metti vicino un ateo o un atea un senza dio ma come puoi sperare qualcosa di buono a te che gli empi qui continuerà sragionano noi invece su certe cose dobbiamo fare essere molto molto fermi da un senza dio non può venire niente di realmente buono no? però c'è tanti difetti è un grande lavoratore è un grande questo quell'altro non so che cosa no? è tanto buono ecco è tanto caro con con i figli sì ho capito avrò un senza dio e i senza dio coscienti o incoscienti invocano su di sé la morte la stanno chiamando con gesti e con parole vedete qui che espressioni ritenendo l'amica si consumano per essa pensa un po' dicono fra loro sragionando sentite ecco qua il classico discorso guardate guardate questo è il ritratto di quella masnada di senza dio fuori di testa di cui siamo circondati oggi allora ragionamenti degli empi pensiamo un po' guarda scienziati proprio alcuni peraltro si freggono proprio del titolo io lo uso in senso ironico scienziati ma alcuni di questi sono proprio scienziati scienziati che fanno questi ragionamenti qui ragionamenti ecco vedete che bello il libro della sapienza dicono fra loro non ragionando ma sragionando cioè logisame logisame noi quindi uk ortos letteralmente cioè non ragionando sragionando ma ragionando in maniera non retta avete visto ortos in greco no? che significa ortoprassi no? ortogonale eccetera no? retto significa ortos quindi ragionando in maniera non retta e che cosa ragionano? uuuuh dicono la nostra vita è breve è breve e triste origos cai liuperos ah poi sentite questa è proprio la quintessenza di quelli che si che si sciacquano la bocca che sono scienziati siamo nati per caso questi super scienziati pensano che non sono nati soltanto loro per caso è tutto nato per caso l'universo è nato per caso la terra è nata per caso io sono nato per caso ambarava cicciccocco ok? vedete c'è c'è leggete per favore il libro della sapienza e dopo saremo come se non fossimo stati ah poi con la morte è finito tutto con la morte qui siamo nati per caso bella che bella che sarebbe la vita così no? e dopo sarebbe come se non fossimo stati oh il soffio delle nostre narici è un fumo il pensiero ha una scintilla nel palpito del nostro cuore una volta spentasi questa il corpo diventerà cenere e lo spirito attenzione si dissiperà come l'aria leggera lo spirito secondo questi si dissipa come l'aria leggera ma tu guarda un po' o poi altra cosa da depressione no? un po' di foscoliane reminiscenze il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere la nostra vita passerà come le tracce di una nube si risperderà come una nebbia e scacciarla dai raggi del sole sarà disciolta dal calore oh qui sembra di sentire un po' foscolo eh se la nostra esistenza è il passare di un'ombra oh non c'è ritorno alla nostra morte poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro oh e allora oh ecco qua grandi scienziari su godiamoci i beni presenti facciamo uso delle creature con ardore giovanile stasera c'è un po' di vena poetica quindi qua mi sembra di vedere prima c'era foscolo qui c'è cecco angioglieri lo ricordate cecco angioglieri com'è bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuole essere lieto sia del domani non v'è certezza eccolo qua tutti appresso io quando andavo a scuola oh che bello cecco angioglieri ah che grande poeta che grande idiota no che grande poeta quale grande poeta inebriamoci di vino squisito ah e di profumi non lasciamoci sfuggire il fumo e del fiore della primavera qui mi sembra ah stasera stasera guardate la testa così qui mi sembra di vedere vi ricordate l'attimo fuggente Robin Williams ecco qua qua su inebriamoci di vino squisito carpe diem eh il mito dei poeti estinti la setta dei poeti estinti succhiamo tutte le cose belle della vita no ah non lasciamo sfuggire il fiore della primavera coroniamoci di boccioli di rose prima che abbizziscano oh nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza eh ah che bello eh lasciamo dovunque i segni della nostra gioia spapop vogliamo farne qualcun altro ma si dai spadroneggiamo sul giusto povero via poi non risparmiamo le vedove via poi nessun riguardo per la canizia ricca d'anni del vecchio sembra di vedere certi ragazzacci che girano oggi in giro che sono veramente diventati qualche cosa di inqualificabile oh e poi la scienza prosegue eh quindi andiamo increscendo dice oh tendiamo insidio al giusto perché adesso qui però c'è un problema questi vogliono campare in questo modo però poi trovano sempre qualche grillo parlante è perché c'è sempre un problema c'è il problema del grillo parlante c'è c'è il problema è un grosso problema ti trovi il grillo parlante che con la vita con le parole dice no 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 I'm so sorry guarda proprio absolutely sorry ma le cose non stanno affatto così come pensi tu caro il mio stolto empio le cose stanno diversamente allora che dobbiamo fare allora questo bisogna eliminarlo tendiamo insidio al giusto perché c'è imbarazzo di accontrare le nostre azioni ci rimprovera le trascensioni della legge più la parlante ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta se posso raccontare un aneddoto anche se è un po' autobiografico in una parrocchia dove sono stato una volta mi dicono eh però tu tu devi fare bravo perché tu ci rovini le domeniche io ci rovino le domeniche mamma mia che avevo fatto eh ma tu durante la messa cominci a parlare del peccato dei peccati dell'inferno eh dai no parla di qualche altra cosa così ci rovino la domenica perché ti rovino la domenica scusa tu che hai a messa io queste cose le sto dicendo per i pagani i peccatori non le dico mica per te tu tanto non sei così no quindi se mi dici che ti rovino la domenica che devo pensare mi fa pensare male ci rimprovere le trasgressioni della legge che è una grande opera di misericordia augurati di trovare qualcuno che ti rimprovere le trasgressioni della legge e ti dia una bella spazzolata e così ti dà la possibilità di riconoscere i tuoi errori e di convertirti proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore adesso faccio subito una premessa perché cominciamo a provare a leggere queste cose avendo sullo sfondo la vicenda storica terrena di nostro Signore Gesù Cristo e la sua passione questo è proprio un brano emblematico proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore è diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti ci è insopportabile solo al vederlo perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diversa sono le sue strade moneta falsa siamo da lui considerati schiva e le nostre abitudini come mondezze proclama beata alla fine dei giusti e si parte di avere Dio per padre o i cristiani sono così e mamma mia che brutti cristiani e dove era misericordia qua non mi sembra che ci sia tanto misericordia opera di misericordia spirituale se ricordo bene il catechismo ammonire peccatori se ricordo bene il catechismo è una opera di misericordia spirituale o no anche insegnare agli ignoranti o almeno provarci a farlo o no quando ci dovesse succedere che le persone rimangono scandalizzate vanno vicino un pochino al signore e comincia poi a scoppiare tra virgolette la persecuzione piccola noi passiamo attraverso persecuzioni piccole si possono ritenere un po' mattemun un po' pazzerielli un po' demudeo un po' fuori fuori contesto un po' esagerati ecco oppure un po' bigotti oppure aspetta qual è quell'altro era bacia pile aspetta hanno fatto il lavaggio del cervello fanno un po' finire un po' il repertorio vabbè più o meno ci siamo no? quindi allora dobbiamo che che dobbiamo fare? allora facciamo una bella pensata versetto 17 guarda gli empi che scienziati vediamo se le sue parole sono vere a proviamo ciò che gli accadrà alla fine ah se il giusto è figlio di Dio glielo assisterà lo libererà dalle mani dei suoi avversari mettiamolo alla prova con insulti e tormenti vedete per conoscere la vitezza del suo carattere e assaggiare la sua rassegnazione condanniamolo a una morte infame perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà queste cose si sono compiute a una lettera nella vicenda del Signore e gli le hanno poi anche sbattute in faccia in maniera beffarda irrisoria quando era in croce no? uè figlio di Dio forza facci vedere chi sei se sei il figlio di Dio scendi no? ma se sei come mai che sei il figlio di Dio e Dio che tuo padre ti lascia come dire umiliare in questo modo stai facendo questa morte da infame non succede niente non succede se non fosse queste cose purtroppo sono successe che il bersaglio era nostro Signore ci sarebbe come dire da fare una sonora pernacchia e un sovrano disprezzo però ci sono avverate che il nostro Signore si avverano con tanti dei suoi discepoli la pensano così ma si sbagliano si sbagliano di rosso la loro malizia li ha accecati l'accecamento vedete la loro malizia li ha accecati la malizia sapete cosa è la malizia no? qui in greco più che malizia è cacchia cacchia cacos in greco significa cattivo malvagio cioè la cattiveria ma uno si definisce cattivo quando quando la sua volontà si è pervertita si è volta verso il male lo sceglie e lo persegue quando la nostra volontà si volge verso il male sapete che succede? che rimaniamo accecati io racconto sempre l'ho detto tante volte il mio come dire il mio tormento il mio assillo che ho avuto per tanti anni no? che mi chiedevo sempre ma come caspita è possibile che Lucifero l'angelo più grande il numero due con tutta l'intelligenza che c'ha va a fare la pazzia di commettere il peccato angelico e di diventare satana il problema è che se la volontà si perverte e Lucifero ha pervertito la volontà tutta l'intelligenza che c'ha viene vanificata perché la malizia acceca ricordate che dice Gesù nel mangiolo di San Giovanni nell'episodio del cieco nato Gesù non è venuto per ritare la vista ma per toglierla a quelli che dicono di vederle di vedere questi qui non conoscono i segreti di Dio uno secondo non sperano salario per la santità ne credono la ricompensa delle anime pure bellissimo anime pure pure non soltanto la purezza del corpo amo mon di nuovo alfa privativo quindi senza colpa letteralmente senza colpa non macchiate senza colpa e non incolpabili noi speriamo salario per la santità certo salario oppure semplicemente in greco è proprio miston no ricompensa è cattolicissimo figlioli mei cari credere che Dio ricompensa il bene e punisce il male solo che tanto oggi ah no ah no 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 la misericordia la misericordia la misericordia quindi se fosse vero la misericordia la misericordia la misericordia un buono che cosa lo fa fare il bene non serve no tanto un cattivo misericordia 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 per l'uno e per l'altro è uguale al buono che serve ora questo è un passaggio memorabile del libro della sapienza no si Dio ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece a immagine della propria natura ecco qua ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono invidia e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono in greco e peraizusin deuton oites ekeinu meridos ontes quindi capite qui c'è la disposta che è la grande questione esistenziale Dio ha creato l'uomo per l'immortalità cioè noi non saremmo dovuti morire non sta dicendo che ha creato l'anima immortale qui no no Dio ha creato l'uomo per l'immortalità aftarsia la morte non l'avremmo dovuta conoscere la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono e poi c'è il bellissimo capitolo terzo che c'è il confronto speculare no ci abbiamo visto gli empi e adesso vediamo i giusti o le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio nessun tormento ne toccherà le anime dei giusti chiaramente quelli che sono morti in grazia in amicizia con il Signore anche qui dica non è semplicemente il giusto è un nome giusto sono le anime di quelli che hanno osservato perfettamente la legge del Signore e i comandamenti o agli occhi degli stolti ancora degli afronon parve che morissero sembrò che morissero la loro fine fu ritenuta una sciagura la loro partenza da loro una rovina ma essi sono nella pace anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi perché la vita dei giusti molte volte è tribolata la loro speranza è piena di immortalità per una breve pena riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati li ha trovati degni di se li ha assaggiati come ora nel crogiolo li ha graditi come un olocausto nel giorno del giudizio li splenderanno come ci tirano nella stoppia eccetera quanti confidano in lui comprenderanno la verità bellissimo coloro che gli sono fedeli vivranno presso di noi nell'amore perché grazie e misericordia attenzione sono riservati a chi? ai suoi retti invece gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo non la misericordia non si è scritto così nella Bibbia essi che hanno dispersato il giusto e si sono ribellati dal Signore chi disprezza la sabienza e la disciplina è infelice vanno la loro speranza le loro fatiche senza frutto inutili le opere loro poi le loro mogli sono insensati cattivi i loro figli maledetta la loro progenie chiaro? questa è parola di Dio rileggo quanti confidano in lui? cioè quanti ce credono? cioè peito è ancora di più che che pisteuo cioè è la fiducia è la fede fiduciale quindi è è l'abbandono confidenziale comprenderanno la verità a tutti i livelli eh chi la verità non la comprende e resta cecata perché non sta confidando nel Signore oh poi chi è che vivrà presso il Signore nell'amore? quelli che sono fedeli i fedeli non gli infedeli perché la grazia e la misericordia per chi sono sono riservati ai suoi retti agli ecleptois e invece quelli che sono empi per gli empi per i senza Dio ancora vedete a sebeis per i loro pensieri riceveranno il castigo epitimia in greco la punizione essi che hanno disprezzato il giusto e si sono ribellati e si sono ribellati al Signore e poi attenzione qui vengono attribuite mogli insensate e figli cattivi all'empio a colui che disprezza la sapienza e la disciplina pensiamoci amici amici mi chiede a queste cose vedete che la conoscenza biblica è sempre molto importante perché questi testi sono di una chiarezza non c'è bisogno di commentarli io li leggo sto semplicemente sottolineando alcune cose che cosa devi commentare più chiaro di così lo capisce pure un bambino o sbaglio facile facile andiamo a vedere un altro brano con questo abbiamo finito andiamo a vedere facciamo un attimo ecco un saltino sulla morte prematura 4 7 19 il giusto anche se muore prematuramente troverà riposo vecchiaia veneranda non è la longevità che ci fai se campi 80 anni 90 né si calcola dal numero degli anni la canizie per gli uomini sta nella sapienza un ventenne che è sapiente c'ha i capelli più bianchi di come ce l'aveva benedetto sedicesimo un'età senile è una vita senza macchia senza macchia un'età senile vedete che bello cai enichia geros bios achelidotos senza macchia chi conosce l'inglese sta ritenziando la parola vada a vedere spotless blameless divenuto caro a dio fu amato da lui e poiché vivia tra i peccatori fu trasferito io ho vissuto queste cose chi mi conosce le sa io l'ho vista con gli occhi miei queste cose qui nella vicenda del mio caro amico francesco e sentite come mai che è morto così giovane c'è la risposta una risposta fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo una benedizione essere morto prima che ti potessi corrompere o no poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione tra voi una mente semplice capite cosa sta dicendo qui il testo una persona che muore giovane chi è una disgraziata per gli atei per gli empi noi siamo stati due giorni fa in pellegrinaggio da santa gemma calcana è morto a 24 anni anche santa teresa di gesù bambino è morto a 24 anni tanti santi e sante sono stati onorati dal signore di morire a 33 anni san luigi maria monfort è morto dunque a 1673 a 43 anni giunto in breve alla perfezione ha compiuto una lunga carriera carriera la sua anima fu gradita al signore perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio gli ha fatto un regalo si possono vedere tra noi cristiani le scene ragionamenti proprio da da empi è morto così ma poverino ma non si è goduto la vita ma che disgrazia disgrazia qui non c'è scritto che è una disgrazia a meno che non capisco l'italiano io veramente capisco pure il greco gli altri devono andare a fiducia però se si guidano a meno di software si vedono le paroline a fianco e poi c'è il commento i popoli vedono senza comprendere la gente i popoli attenzione i laoi cioè i laoi in greco il laos è il popolaccio diciamo così come si chiama l'uomo della strada poverino è morto tanto giovine non riflettono a questo fatto un'altra volta che la grazia e la misericordia caris in greco che eleos entoes e klektois autu sono per i suoi eletti e attenzione l'altra cosa è la sua è la protezione per i suoi santi attenzione alla protezione episcope episcope vuol dire ti hai visto il telescopio ti guardo dall'alto cioè ti guardo dall'alto ma dall'alto vuol dire ti guardo come Dio quindi ti guardo dall'alto per proteggerti questa è roba da santi osiois la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi abbiamo capito bene se una persona viene da santo viene sotto la protezione dell'altissimo il giusto defunto condanna gli empi ancora in vita parole sacrosante ma vedete come parla la sacra scrittura ma voi sentite in giro sti discorsi scusate si sentono in giro discorsi di questo gel ma questa è la sapienza questo è il libro della sapienza questa è la sapienza tutte le cretinate che si sentono in giro anche da parte di molti che dovrebbero essere maestri di sapienza una giovinezza giunta in breve alla perfezione condanna la lunga vecchiaia dell'ingiusto le folle vedranno la fine del saggio ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a suo riguardo né in vista di che cose il Signore l'ha posto al sicuro ma sentite che roba io vado in estasi quando questo è proprio questa cioè io sto sentendo un concetto che altro che il che bacche Beethoven questa è proprio musica per le mie orecchie che tra poco va di in estasi cosciente come a me non ci va di in estasi mi raccomando nessuna per si roba del genere le folle le folle le folle vedranno e non comprenderanno e non capiranno quindi le folle si fa sempre riferimento a popolaccio non capiranno ciò che Dio ha deciso a suo riguardo né in vista di che cosa il Signore l'ha posto al sicuro l'ha posto l'ha posto al sicuro capite l'ha posto al sicuro cioè l'ha tolto dal pianeta Terra e se l'ha portato in cielo beati a loro ma c'è forse qualcuno di quelli che stanno ascoltando ma che non sarebbe contento se il Signore t'avesse già preso la vita sperando di essere voluto e t'avesse portato al sicuro ma magari fosse successo a me ma lo dico in senso buono per carità se il nostro Signore vuole l'altro invece di mancare pure altri 200 anni sul pianeta Terra ma non è una cosa da temere come una sciagura e questi popolazzi tra l'altro il popolaggio che cosa fa vedranno e disprezzeranno che brutta roba che brutta vita questo magari era pure credente guarda che bella ricompensa ma se sentiamo ma è il Signore il Signore li deriderà cioè il verbo greco in chelao significa proprio ridere se ne ride chi abita ai cieli dice il Salmo 2 li schernisce dall'alto il Signore a questa gente e gli parla loro con ira li sgomenta nel suo sdegno Salmo 2 andatelo a leggere infine diventeranno un cadavero spreggevole oggetto di scherno fra i morti per sempre questa gente qui Dio infatti li precipiterà muti a capofitto li schianterà dalle fondamenta saranno del tutto rovinati si troveranno fra i dolori e il loro ricordo perirà si presenteranno tremanti e rendi conto dei loro peccati le loro iniquità si alzeranno contro di essi per accusarli libro della sapienza non misericordia 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 questa è parola di Dio nessuno può sostituire le proprie follie umane create a propria immagine e somiglianza per tranquillizzare e tacitare la coscienza che vi improvera guardate che chi dice troppo misericordia 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 ve lo dico io che lo dico questo qui questo è pensiero mio lo sapete perché dice così sì perché c'è un carico sulla coscienza che spera che sia così ma non è così tremanti a rendi conto dei loro peccati se la faranno sotto scusate la prosaicità un po' troppo ecco un po' troppo estrema allora il giusto sarà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e hanno disprezzato le sue sofferenze vedete come io lo dico anche a qualche giovanotto che camminare oggi nella vita cristiana può essere un po' impegnativo dico guarda che c'è sta il proverbio che ride bene e che ride ultimo tu ricordati che questo lo deve applicare anche alle cose di fede capito? vediamo poi chi ride alla fine ridi ridi sbeffeggiami sbeffeggiami prendimi in giro un ragazzotto c'ho vent'anni sono ancora vergine ah sei ancora vergine ma grazie del maschio sei ma che non sei buono ma che sei passato dall'altra sponda falli ridere falli vediamo poi chi è che ride alla fine ridi ridi mi madre diceva da buona romana che mamma ha fatto gli gnocchi ridi 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 poi vediamo chi ride allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e hanno disprezzato le sue sofferenze e questi e arriverà quel giorno ah quel giorno arriva figlioli miei cari costoro vedendoli saranno presi da terribile spavento saranno presi da stupor però se sapessi in attesa e pentiti pentiti diranno tra di loro gemendo nello spirito tormentato ecco colui che noi una volta abbiamo deriso e che stolti abbiamo preso a bersagno del nostro scherno lo vedete giudichiamo la sua vita una pazzia la sua morte è disonorevole perché ora è considerato tra i figli di Dio e condivide la sorte dei santi abbiamo dunque deviato dal cammino della verità troppo tardi però adesso per rimediare la luce della giustizia non è brillata per noi nemmai per noi si è alzato il sole ci siamo saziati nelle vie del male e della perdizione abbiamo percorso dei certi impraticabili ma non abbiamo conosciuto la via del Signore e a che cosa ci ha giocato la nostra superbia che cosa ci ha portato la ricchezza con la spavalderia io penso sinceramente a qualcuno a più di qualcuno passato dalla scena di questo mondo mi auguro di non ritrovarsi a doversi confrontare con queste parole glielo auguro che cosa ci ha giocato la nostra superbia dalla ricchezza con la spavalderia quindi perché ci sono i soldi che si pensano dei padroni del mondo di poter fare gli splendidi e i ridicoli fino a età avanzata diventando artefatti pensando di ingannare la morte ma tanto la morte non la inganni tutto questo è passato come ombre come notizia fugace come una nave che è sul calonga agitata oppure come un uccello che vola per l'aria eccetera eccetera o come quando ho scocciato una fessa al bersaglio così anche noi appena nati siamo già scomparsi non abbiamo avuto alcun segno di virtù da mostrare bella roba siamo stati consumati nella nostra farmacità bisogna pensarci figlioli miei cari a queste cose tu pensa se ti ritrovi davanti al padre eterno dovendo dire una cosa di questo genere non abbiamo avuto alcun segno di virtù da mostrare solo il nulla il niente bene ci fermiamo io sono felice di non aver finito perché così ci si vivrà un'altra bella puntata dove io soltanto ve le leggo queste cose magari chi ascolta forse sarà contento e resta riedificato me ne rallegherei ma io sicuramente sono più contento di chi ascolta perché ogni volta che le leggo queste cose c'è proprio un moto di compiacenza perché le cose stanno così non stanno come qualcun altro dice e ogni tanto ricordarselo e sentirlo leggere nero su bianco dalla parola di Dio penso che arreghi a tutti una discreta consolazione Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga e siano dotati Gesù e Maria grazie a tutti